Quali sono i migliori wallet per detenere Bitcoin? I wallet più sicuri, i wallet che ci permettono anche di fare trading di Bitcoin o i wallet che ci permettono di guadagnare in maniera passiva attraverso i Bitcoin? Noi di Cryptovaluta Italia abbiamo selezionato i migliori secondo noi e oggi li vedremo in questo nuovissimo video. Ma prima di andare avanti vi invitiamo ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tanti altri contenuti come questo. Partiamo dall'hardware wallet più sicuro in assoluto, parliamo del Ledger. Abbiamo la possibilità di poter ottenere il Ledger Nano S+, che è appena uscito, il Ledger Nano X e il Ledger S, il più costoso in questo momento è il Ledger Nano X. È molto sicuro in quanto è un hardware wallet e di conseguenza quando noi deteniamo i Bitcoin all'interno del Ledger qualsiasi operazione deve essere confermata da chi ha in mano il Ledger. Quindi il rischio che noi possiamo avere in questo caso specifico è quello di perdere il Ledger, ma nemmeno perché se noi salviamo la nostra seed price in un posto sicuro possiamo recuperarla con un altro Ledger. Detto questo, la cosa straordinaria del Ledger è proprio questa, che noi possiamo per esempio integrare questo Ledger all'interno del mondo decentralizzato mettendo a rendita i nostri Bitcoin e facendo determinate operazioni in totale sicurezza. Ora, la cosa importante da capire è che ci sono diverse versioni. Questa è la Nano X, che è quella che noi preferiamo, che ci dà la possibilità di avere anche il Bluetooth, di poter avere oltre 20 criptomonete all'interno del Ledger perché ci sono le app che andiamo ad installare. Naturalmente dobbiamo capire quello che vogliamo fare. Se vogliamo detenere una solo criptomoneta, che magari è solo Bitcoin, basta anche il Nano S e se non ci interessa il Bluetooth. Se invece vogliamo detenere più criptomonete, probabilmente il Nano X è quello che fa il caso nostro. Altra cosa molto importante, in basso troverete il link per poter acquistare il Ledger Nano. In primis acquistando il link in basso, supportate il canale. A voi non cambia nulla. La cosa che però a voi cambia è comprarlo all'interno del portale ufficiale. Non vi consigliamo infatti di comprare i Ledger all'interno di portali come anche Amazon perché non sappiamo se poi sono stati manomessi. Ordinarli direttamente dal sito web ufficiale significa che lo stiamo comprando nuovo, che nessuno l'ha mai toccato e quello che ci arriva a casa è estremamente sicuro e tutto ciò che faremo noi con il nostro Ledger è sicuro, cioè non perderemo le nostre criptomonete a meno che non facciamo cavolate noi, ok? Quindi di conseguenza vi straconsiglio di acquistarla all'interno del portale ufficiale. Detto questo, questo è l'unico hardware wallet che abbiamo voluto portare in questo video. Ce ne sono tanti altri. Per esempio c'è il Trezor, mi viene in mente. Però essendo che ne ha tre versioni, Ledger basta e avanza. Adesso andiamo avanti e cerchiamo di capire invece quelli che sono i portafogli wallet che ci permettono di detenere i Bitcoin generando anche degli interessi che è una cosa che piace un po' a tutti. Ne abbiamo selezionati tre. Partiamo dal primo che è Celsius. Allora, la cosa straordinaria di questi wallet è che possiamo detenere in maniera sicura essendo wallet centralizzati i nostri Bitcoin e abbiamo anche degli interessi depositando questi Bitcoin all'interno di questi wallet. Tra l'altro possiamo decidere se abbiamo più di un Bitcoin o comunque abbiamo una bella porzione di Bitcoin di suddividere questa porzione di Bitcoin su più wallet così aumentiamo la sicurezza perché se diversifichiamo su più wallet riduciamo il rischio ma immaginiamo che magari un Celsius possa fallire un giorno. È molto difficile. Ah, io vi sto dicendo in maniera catastrofica quello che potrebbe succedere. Ecco, se io ho tutto su Celsius ho fatto un errore. Se lo suddivido tra Celsius, Nexo ed FTX, XBlockFolio, l'app, ok? Già sto facendo una cosa giusta. In più lo metto nel leggere e mi sto comportando come si deve comportare un investitore consapevole. Ora, su Celsius la cosa straordinaria è che noi possiamo avere anche un bonus di benvenuto. Infatti in basso troverete tutti i link referral di queste piattaforme. Per quanto riguarda Celsius abbiamo addirittura un bonus di 50 dollari in Bitcoin se depositiamo 400 dollari di qualsiasi cripto, per esempio Bitcoin. Quindi abbiamo anche Bitcoin gratis, tra le altre cose. Su Nexo, idem, se depositiamo 100 dollari abbiamo 25 dollari di Bitcoin gratis. Su FTX invece riceveremo una criptomoneta random a seconda del deposito che noi andremo a effettuare. Cioè nel senso noi effettuiamo il deposito e poi ci verrà regalata una criptomoneta random. La cosa straordinaria di FTXX Blockfolio è che fino a 30.000 dollari, se non sbaglio, abbiamo l'8% di ritorno da qualsiasi cripto che depositiamo. Quindi se noi per esempio depositiamo 20.000 euro di Bitcoin avremo l'8% all'anno su questi Bitcoin che è un API, attenzione, quindi interesse composto. Su Nexo è qualcosina in meno ma comunque è molto interessante, poi dipende il livello che avete in Nexo guardato il tutorial. idem su Celsius dovrebbe essere il 5 o il 6%. Comunque se andate sul portale e guardate il tutorial che abbiamo fatto troverete la percentuale corretta. La cosa straordinaria è che su Celsius e FTX non dovete fare nulla. Su FTX lo dovete solo attivare, c'è una funzione apposita. Su Celsius invece non dovete proprio fare niente, in automatico generate degli interessi. Su Nexo invece li dovete mettere nella sezione Ernie Staking, anche staking bloccato di un mese se volete aumentare la percentuale, ma niente di trascendentale, abbiamo fatto un tutorial qui sul canale che spiega come fare e quindi questi sono tre portali ottimi perché vi danno dei bonus di benvenuto e in più vi permettono di generare interessi passivi. Quindi oltre alla sicurezza del centralizzato, abbiamo anche la certezza di generare dei guadagni passivi dal detenere i nostri Bitcoin. Poi abbiamo deciso di portare un wallet, che è Trust Wallet, dei classici wallet online nel mondo decentralizzato, i classici wallet con la seed phrase, ok? Abbiamo fatto un tutorial su Trust Wallet, andatelo a vedere. Era nato come wallet esclusivo per Ethereum, tipo Metamask, ok? Adesso invece è integrato anche Bitcoin. In questo caso specifico la sicurezza sta nel fatto che comunque per poter entrare ad ottenere i nostri Bitcoin, il rischio che noi possiamo avere con Trust Wallet è o che perdiamo la seed phrase e quindi la trova qualcuno, entra su Trust Wallet e quindi ci può rubare i fondi, o quello che può succedere è che noi perdiamo la seed phrase e non possiamo più entrare nel nostro wallet, ok? Quindi dobbiamo solamente stare attenti a conservare bene questa seed phrase, sia per non fare entrare in contatto nessuno con la nostra frase segreta, sia per non perderla, va bene? Qui abbiamo poi la possibilità con Trust Wallet di integrare diverse piattaforme decentralizzate, ok? Quindi poter poi mettere a rendita i Bitcoin. Il rischio anche in questo caso specifico è che se lo facciamo su piattaforme scam rischiamo di perdere tutto, quindi dobbiamo sempre stare un po' attenti. Però naturalmente in ottica di diversificazione e soprattutto se non abbiamo il budget per comprare il Ledger, Trust Wallet sicuramente fa al caso nostro. Per finire abbiamo poi gli exchange, le piattaforme che ci danno la possibilità di avere anche un wallet per detenere i nostri Bitcoin e che ci permettono di tradare, di fare trading, che è una cosa che molti di voi amano fare. Le tre piattaforme che abbiamo selezionato sono le seguenti. La prima è i Toro, che tra l'altro oltre alle criptovalute ha anche le azioni. La seconda piattaforma è naturalmente la numero uno al mondo per quanto riguarda gli exchange di criptovalute che è Binance, che ci dà la possibilità di effettuare il trade e scambiare oltre 600 criptovalute. E poi abbiamo FTX, in questo caso la versione non quella dell'app, ex blocco foglio, non c'entra niente, ma quella direttamente dell'exchange. Tra l'altro sia su FTX, sia su Binance, sia su i Toro, in basso trovate i nostri link referral, avrete dei bonus come sconti, sulle commissioni, sul trading, albite e così via. Quindi queste sono le tre piattaforme che abbiamo selezionato. Le abbiamo già trattate all'interno del canale, non entro troppo nei dettagli. Una delle tre va benissimo. Naturalmente anche in questo caso, se volete diversificare, andrebbe bene ottenerle tutte e tre, anche perché magari vi prendete pure dei bonus di benvenuto. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo conosciuto quelli che sono secondo noi i migliori wallet per detenere Bitcoin. Se ne conoscete altri, fatecelo sapere nei commenti qui in basso. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto! Ciao!